Motivazioni? Ho voglia di giocare, di cercare di rifare quello che ho fatto l'anno scorso e quando stai 5 mesi fermo non è facile e quindi mi sento come quando avevo 17 anni un ragazzino che giocava la prima partita tra professionisti quindi la voglia è tanta ringrazio la società che abbiamo fatto una scommessa a me piacciono le sfide soprattutto le sfide in piazze importanti come Salerno che mi danno tanto mi danno responsabilità e voglio fare una sfida con me stesso a 37 anni riuscire ancora a fare qualcosa di buono per questa maglia e quindi finalmente la scuolifica è finita mi metto a disposizione dei miei compagni e spero di ripagare la fiducia che mi ha dato la società ma io penso che inizialmente dico che il campionato di Serie B si è molto equilibrato, si è molto livellato, non c'è una squadra che ammazza il campionato come tanti anni fa, se c'hai un gruppo importante di buoni giocatori che durante la stagione sei comunque non hai cali di fisici di tensione sei molto lineare puoi fare qualcosa di importante io penso che questa salernitana vedendo la rosa è una rosa importante con un mix di giovani e di gente esperta e io sarei ben contento di dare una mano a questa società ma soprattutto essere d'aiuto anche ai più giovani essendo penso il più anziano della squadra e penso che è una squadra che può lottare per qualcosa di importante in più c'è la piazza, la tifoseria che spinge e quindi abbiamo un buon potenziale adesso non voglio sbilanciarmi ma abbiamo una buona squadra e il nostro obiettivo è quello di andare ai playoff e giocarcela, i playoff sono un turno all'otto e speriamo di esserci dentro. Io fisicamente sto bene è solo che non giocando per cinque mesi mi manca un po' la partita e quindi adesso oggi ho affrontato il mio primo allenamento e vediamo insieme all'allenatore e alla società se è il caso di essere disponibile per venerdì è chiaro che un po' di ritmo partita mi manca ma io penso che con lo staff se c'è una buona organizzazione nel giro di dieci due settimane prenderei la condizione per potermi divertire ancora gli ultimi anni perché penso di dare ancora tanto se sto bene. C'è stata la volontà di entrambi di venire qua a me piacciono le sfide avevo altre altre richieste sono venuto venire qua perché Salerno è una piazza calda e voglio fare bene in questa in questa città è chiaro che dopo due campionati vinti a Parma dove comunque sono stato bene io con la mia famiglia dopo quasi 40 gol in due anni e con la città che comunque per loro era un giocatore importante mi sentivo di ringraziarli per quello che comunque mi hanno mi hanno dato soprattutto per quello che è successo quest'estate era giusto che io come ho fatto io come hanno fatto gli altri tre ragazzi che sono andati via che sono stati tanti anni a a Parma quindi non c'è nessun nessun problema nessuna nessun malumore non c'è nulla. Buonasera a tutti per primo sono più che contento di venire a questa città a questa squadra perché appena penso che in due tre ore abbiamo fatto tutto perché appena mi hanno detto che c'era la Salernitana c'era la possibilità di venire ho detto subito di sì dopo venerdì anche se c'era un'altra squadra non c'era il benevento io sono molto felice di esordire con questa maia è un derby e niente bisogna scendere in campo per vincerlo dopo il mio passato benevento è passato quello rimarrà non lo so ma io non guardo dietro adesso voglio solo pensare questa maglia e scendere un campo per vincere e per fare contenti ai miei tifosi. È una sfida perché soprattutto per me perché è è da 5-6 anni che sento Calaio è vecchio Calaio è vecchio Calaio è vecchio ogni anno però qualche gol l'ho fatto quindi se io adesso vado a pensare a Quagliarella a Pellissier a gente che ha la mia età e anche di più alla fine se stai bene fisicamente in questa Serie B puoi ancora fare bene quindi una sfida per me stesso è una scommessa e ci siamo fatti con la società di ripagare la fiducia che mi ha dato comunque la società. Il mio obiettivo è quello di con la maglia della Sernitana e arrivare a 200 gol in carriera è un obiettivo che ho detto anche un mese fa in conferenza ho un anno e mezzo di contratto speriamo di riuscirci. Sì la maglia come detto c'era il numero 3 libero e l'ho presa Sì sulla fascia mancina posso giocare in tutte le posizioni magari quella del difensore centrale quella che ho fatto di meno però sì sulla fascia dopo con i moduli non ho problemi perché ho giocato sei a tre a quattro non ho problemi in quel senso. Come sanno tutti in questa Serie B è così la prima va e perde con l'ultima ci sono partite allucinante noi dobbiamo andare piano piano adesso incontriamo una squadra che è stata costruita non per andare a playoff sino per vincere il campionato diritto e stanno a fare benissimo noi dobbiamo scendere in campo rispettando loro ma senza avere paura noi magari quelli ultimi arrivati dobbiamo capire subito il sistema di gioco e conoscere i compagni però dopo uno come dicevete prima la mia caratteristica magari è un po' sul livello agonistico che penso che dal punto di vista dell'atteggiamento non si può non si può lasciare nulla così che noi con le nostre armi andremo a fare una partita un derby che sarà bellissimo penso che lo stadio sarà quasi pieno e speriamo a rimanere con i tre punti a casa